Ciao ragazzi, siamo come potete vedere su Mortal Kombat vs DC Universe Bene, abbiamo Mr. Simono e Gianluca Raiden di Player Insects si sfideranno in una guerra fratricida Ma perché fratricida e chi è fratricida? Noi, non mi carichano tutti Però tu in una guerra fratricida Oh, mi pigli un Batman Come fratricida, mi stavo a dire fratricida, no? Visto che sono Raiden mi prendo giustamente sport C'è anche Raiden Ma chi sarebbe là, è cazzuomo No, ma enti, me lo uniti Ma questo qua, c'è Ah, guarda, Joker è la nonna, Sonya Io mi prendo un DC Mi prendo un DC Mi prendo Battle Battle Ma fai random Non mi ricordo affatto i tassi Ma io voglio capire solo come mi devo muoverse Così ci si muove, basta E' questo che mi sento Allora, vediamo Ecco, so questa cosa Come si salta? Oh No Oh Aspetta, ma tu stai giocando scorretto Io non so ma come salto Come mi muovo e chi può dire Oh si, 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 si Si virica a fare recensione di videogiochi, ah Secondo me questo uomo è il mattino Ma cosa, ma perchè non mi posso muo... Oh Perché me le sono ricordate mentre il gioco Si in mare ma mai cucina di due anni fa sembra la stessa mossa Dai Anche io Che recensione sei Allora Allora Un Batman serio che è conscio delle sue abilità Capace di intendere di volere Sono una roba e fuori di cosa Vorrei capire cosa sto facendo A che cosa fa Batman Come Il stessimo anno gioca a rudon jump Tra l'altro il mio non salta più Ah forse non salta Oh my god, come si danno in questo gioco Così, si danno, così Così Mi sono messo L'uomo L'uomo Della luce solare L'uomo Della luce eterna Solare Io l'uomo della velocità Cos'è ne pensi di Di flash Uno che faga le bollette Secondo mia Secondo mia flash E' un fotografo Secondo mia flash E' un flash Ma ti sto scherzando Oh flash Ah Ragazzi Prima volta che flash Oh Che cosa c'è questa Fegherò Ci vado Lo sblocco Cerno cerno ma è giocato Ciao Luca Ryder non si è preso Ryder E perchè E perchè Ryder? Perchè troppo forte Ryder Oh tra poco Gli ha preso Ah vero Vai Aiuto Wow Wow Finalmente flash si fa Si fa vedere C'è ma flash che è bravissimo Rapper Esatto Oh Ma che è flash? Io Si ma te Vabbè Nooo Voi vede Cos'è Per Ryder è troppo forte Mi sta sovrastando ragazzi Aia 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 Ma minchia è troppo forte No 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 Oh Cameramea No Non mi posso muovere più Ma non c'è una balla No Ragazzi Ma quel ciccio Ma quel ciccio è incredibile Verità Ti faccio Ragazzi Flash è un flash da giocare O Onda E Oh Fammi fare l'onda nel centro Dio Semmi di scorpio che cosa è Io scorpio vede sempre Vuoi fare l'onda nel centro? Ti sposti Come ti sposti? Sposti Oddio ma quant'è grossa? Quanto è grossa? Ora voglio dare quanto è grossa Nooo Sei un foglio Sei un fight Oddio 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 Vai 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 forza Sangue facciamo vedere sangue Non finirò Senza combattere Rider che cazzo Rider che cazzo Questa è la mossa seconda dei salti multiple Ma cosa fa Io voglio comprare a tutti i livelli Ti stai a Ahahah Ti immagino il divertimento Nooooo Ma dai ti dice ma dai Per la penitenza Mr. Simonò E Orazio Bonfiglie Ah mi chiede ma che la penitenza Manco se ne accorgerà Ma Superman bola Ma no 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 Ma prendetevi qualche malafemmina porca Vai Sonia Ma vuoi Sonia chi sta Catwoman Versus Wonderwoman Bellissimo E' più buono Tu sei donna gatto Io sono donna meraviglia No Ma che cosa succede qua Uff Perché il giro? C'è guarda gli do una manata al ceci Ma che cosa succede qua Chi ha fatto la spaccata che è E' più buono Oddio Super Qua si sta non ci senti Oh le miglia Minchia Ma dai Guarda Guarda Ti vengono di nuovo con le mine se ci vieni No con le mine Ohhhhhhhhhhhhhh Bella A ogni presa ti accontrano le mine Si Oh ma si passa i risultati Ohhhhhhhhhh Ohhhhhhhhhh Questa la Maduro Ohhhhhhhhhh Ohhhhhhhhhh Hai una bella massicità Chi è di vicino a combo? Ma ehm Che succede? Ahhhhhhhhhh Ma ci mi vieni Il mini non mi sta toccando Craftclap Craftclap Madonna la buona E' così La supremazia di Wonder Woman Ahhhhhhhhhh Mi spacco a mille No Che dolore Ahhhhhhhhhh Nooo 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 C'è qualcuno che tomba qua A che bar volevo dire Vai Ma che fare Ma ditemi che mi funziona la stessa Vai Non resti Ma che cosa Adesso Adesso scrivete nei commenti Guardi di voi stanno guardando il combattimento e non spune Oh 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 Aspetta Che sono infuocato Minne Catuman è un fuoco Anche io so fare Sono la mostra delle mine Non mi spiegate come si fa Ahhhhhhhhhh Minne 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 Oh ma come si fa la frusta Lo voglio ripare Voglio ammazzare la frustata 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 Ma c'è lì di Dio No no Vediamo Anche tu Anche tu No Passato Te avvicini No te lo stavamo a medicare Ah Medica Medica Tu ma non medica Oh Lì che è passato Caspari 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 Finca di spaccare il culo Oh Tanti Vai O'è la faccia E' la faccia E' la faccia E' la faccia E' la faccia Che spiega 3 2 1 Azione Ragazzi non so se abbiamo capito la benitenza di Orazio oggi E' mettersi delle carote congelate Surgelate Anzi Ma che ora? Io E io parlo di terza persona Sono come i re E' dentro le mutande Con l'ausilio del Qualcuno Alessio vogliate aprire le mutande? No 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 ci vengo Ragazzino tu se potete vedere come questo blocco di carotine Congelate Aspetta che lo metto a fuoco un attimo Guarda che lo mangi No Ok ok Ragazzi stasera ci faremo la pasta Ora metterò questo blocco Non credo proprio dopo che te lo metteremo le mutande Però Ok Ok No vabbè ragazzi alla fine io sono un uomo caldo Quando ti è diventato il pistolino ragazzi Ma ormai è invisibile ci fare Già non era diciamole così grande Guarda la razia Ok ragazzi sto cominciando ad abituarmi Ora ti farò un bel minestrone con queste carote Vai Stasera mangiamo pasta con le carote Vai Bello Non credo gloria Ma quando le devo togliere? Quando si sciolgono Quando ti bagni No Quando si scolgono le palle Ok ragazzi se uno si muove non se ne accorge capito? Ok Va bene Va bene dai Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao